Di bianco vestiti e con il candore della luce di Natale tra le mani, i ragazzi della comunità di Tratantico e Monte Soprarondine, due frazioni alle porte della città di Arezzo, entrano così nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Assieme alla San Giovanni Bende e al coro parrocchiale, la comunità ha santificato così le feste natalizie. Abbiamo fatto da settembre un cammino fatto di prove, di condivisione di tante cose che culmina in questa serata, per noi, di festa, che condividiamo con tutta la comunità. Non è tanto un'esibizione, ma è la condivisione che c'è, è l'aria che si respira e l'essere qui tutti insieme e il capire che tutti insieme possiamo costruire qualcosa di bello, qualcosa di grande. E' una comunità molto attiva, che si dà molto da fare, con attività come queste, che aiutano alla fine a creare comunità, che la comunità va al di là delle mure della parrocchia. E' questo che mi fa piacere. Sì, insomma. è natale, è natale, si può fare di più è natale, è natale, si può fare di più però a natale vuoi